Il grande Rino Banfi, il famoso attore pugliese per eccellenza, ha dovuto subire ben due lutti, ben due morti, prima quella dell'amata moglie Lucia e poi quella del caro amico Maurizio Costanzo. Un chiamiamolo fulminaccio e sereno, meglio un doppio fulminaccio e sereno per gli grandi attori di tante pellicole della Comunità Sezzi all'italiana degli anni 70 ed era presente nella camera al dente e pensate che ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, dicendo proprio che egli vuole continuare a fare il comico, altrimenti si piange tutti e troppi. Stanno malendo veramente troppe persone e Maurizio con la sua grande caratteria, che sicuramente lo ha distinto e lo ha distingueva, avrà fatto passare prima mia moglie e poi è andato lui via. Ora finalmente staranno iniziare entrambi. in questi giorni di tempo sta girando un video che facemmo io e Maurizio Costanzo, erano gli anni 90 circa e diciamo che facevamo o meglio interpretavamo il ruolo dei vecchietti. Lui mi diceva scherzando, ah lì tu morirai prima di me perché hai due anni in meno, in più di me. E così Banfi rispose, chi l'ha detto? Ma com'è veramente bizarro, strano il destino, in questi giorni infatti c'è stata anche la dipartita di mia moglie. Insomma, la prende con un life motive di simpatia, no? Questo evento triste e bruttuoso che c'è stata, la morte del grande Maurizio Costanzo e la dipartita dell'amata moglie, Lucia. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, non con un ricordo importante del grande Maurizio Costanzo dal grande, straordinario, Lino Banfi. Ciao a tutti, iscrivetevi, commentate, e buona giornata a voi.